ciao eccoci qua ultimo giorno della settimana che è anche il primo tra l'altro visto che è lunedì è fantastico oggi si è l'ultimo giorno di scuola primo giorno della settimana e domani l'immaculata tutti a casa noi siamo già a casa da un po allora oggi parte la challenge la nostra sfida sfida che dura sette giorni se volete iniziare oggi terminerete domenica domenica in modo che poi lunedì prossimo iniziate la prossima sì certo ci tagliamo ci autotagghiamo ci autotagghiamo allora sette giorni di squat ovviamente tre squat verranno coinvolti in questa sfida lo squat classico il squat quello sulle punte che io chiamo pit up che si chiamano in modo tutto ma in più valutità e il sumo squat ogni giorno vi avranno incrementati il numero di ripetizione dello squat e del sumo mentre quello del pit up rimane quindi riassumendo squat classico punte ginocchia colonna spalle testa addome secondo tip tap scello sollevo i talloni e risalvo nel caso in cui fosse difficile farlo con entrambi uno due e risalvo ok poi magari procedendo con il giorno riuscite a farlo con entrambi terzo scuoto su uno quindi vi varico bene obbala visto che è tenuto addominale grande discendo e risalvo ginocchia ben aperte punte ben aperte schiena non troppo inclinata in avanti comunque sempre in neutro spalle l'antana dalle orecchie colonna direttamente ok questi sono i tre esercizi della nostra sfida di questi sette giorni in descrizione trovate il numero di ripetizioni da fare ogni giorno non avete un tempo per farli l'importante farli nel modo corretto senza fretta curando bene l'esecuzione qua in una selezione a sinistra e su facebook avrete la foto con la selezione quindi in foto cioè più facile da girare alla vista alla vista alla vista alla vista mi dico che non parliamo in foto quindi potete trovare sia su instagram e su facebook velocemente oppure riguardare qua un giorno se volete vederci ogni giorno la sfida mi raccomando ciao ragazzi ci vediamo domani con il prossimo esercizio ciao ragazzi ci vediamo domani con il prossimo esercizio ciao 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 ciao